Allora, innanzitutto, innanzitutto, mi piace il video e scrivete il canale. Su, su, andiamo avanti, andiamo avanti. Mamma mia ragazzi, che sofferenza, che sofferenza. Oggi bisogna ringraziare la fortuna, oggi sì, oggi sì, anche le altre volte, no? Oggi ci è andata bene, a differenza di sabato scorso, che lì non ti è andata bene. Lì non ti è andata bene, perché, come ho sempre detto, tu non puoi arrivare al novantesimo e trovare il gol. Perché oggi, c'è anche oggi, prestazione imbarazzante, imbarazzante. Abbiamo sofferto tutta la partita, tutta la partita. Bisogna ringraziare anche l'arbitro oggi, perché il gol della Provecelli, su me, era regolarissimo. Perché il giocatore, il numero 9, è partito da dietro. La difesa, non so cosa cazzo stava facendo. Guardava gli uselietti. Era lì, belle statuine. E lì, ho detto qua, qua è finita. Qua è finita, perché dopo l'arbitro è annullato. Non ho capito sicuramente perché. Però, siccome io sono onesto, io sono onesto, perché dico anche, l'arbitro ti ha aggraziato lì. Ci ha aggraziato. Però, nel primo tempo, c'è anche un rigore per noi. Cioè, su Fale o su Correia. Cioè, è netto. Cioè, come fai a non dare un rigore del genere? Cioè, che zucca la maglietta? Che zucca la maglietta? Cioè, io non capisco come certi arbitri facciano arbitrare in Serie C. Cioè, ma proprio la classe arbitrale è incompetente con l'Italia. Cioè, c'è da stare il rigore per noi, perché, boh, alla fine hai vinto. Però, anche l'episodio a favore, lì, insomma, il gol c'è. Mi dispiace, ragazzi. Io, al di là di essere tifoso, però sono anche obiettivo e mi piace analizzare. Oggi, male. Male anche nella fase di non possesso, no? Perché non accennavamo proprio a un minimo di pressing. Cioè, ho visto veramente una squadra statica. Cioè, anche in fase in un po' senso, no? Quando ci chiudavamo, ci siamo abbassati troppo. Perché abbiamo rischiato tutta la partita. Tutta la partita, proprio c'è, erano in un'altra area di rigore. Dopo hai trovato quel gol nel 92esimo. Hai vinto la partita, tutti contenti. Però, chi mi conosce sa che io non guardo il suo risultato. Eh no. Così è troppo comodo. Così è troppo comodo. Queste cose si dicono anche quando si vince 2-1. Perché dopo, quando si perde, la gente cade al pero. E ultimamente, ultimamente la tessiera non mi sta piacendo come prestazioni, eh. Cioè, in queste partite hai vinto, hai vinto Novara anche lì, faticando perché stavi perdendo 2-1. E lei è ribaltata, non so neanche te come. Dopo col Padua hai perso lì, insomma, una partita a pareggio, secondo me. Dopo, eh, so sta di Natale. Dopo Natale vai a vincere a Trento, anche lì. Ma è l'ultimo che non sai neanche te come. Perdi meritatamente con l'Albino Leffe. Però ti sei mangiato l'immangiabile. Perché se tu chiudi la partita, è vero che con il secco, in mano, si fa niente nel calcio. Però le partite vanno chiuse. Cioè, tu non puoi... Oggi sei arrivato al 92esimo, ma perché a Provercelli... Cioè, è veramente... Non è che hanno creato tanto, eh. Però, quando tu dai il pallino del gioco all'avversario, no? Ti chiudi, ti chiudi. Poi succede come con l'Albino Leffe, che prendi due gol in due ripartenze e perdi la partita. Oggi veramente bisogna... Oggi veramente santa fortuna. Santa fortuna. Perché il gol... Il gol... Cioè, il primo gol abbiamo segnato su un'imbucata. Loro si sono fatti trovare scoperti. D'Urso dopo ha segnato. Però il gol del pareggio che abbiamo preso è veramente imbarazzante. Imbarazzante. Cioè, il portiere... A parte che il portiere non può uscire in quella maniera, così. Cioè, è proprio la ciccata clamorosamente. Però il numero 16 a Provercelli, ne dobbiamo parlare. Cioè... Ok, l'errore del portiere. Però noi abbiamo preso gol a difesa schierata. E come dico sempre. Tu quando solleciti i tuoi difensori l'errore lo commettono. Il portiere ha commesso un errore. Siamo tutti d'accordo. Perché lì... Devi... Devi smanacciarla col pugno. Devi entrare in modo cattivo. Invece, secondo me, è entrato in modo... Leggero. Cioè, si vede che... Questo portiere d'Agostino non gioca mai, no? Perché quando tu non sei abituato a avere il minutaggio puoi fare anche degli errori. Però... Lì... Ultimamente la difesa della Tresina lascia desiderare. Ci facciamo troppo, troppo trovare impreparati. Cioè, noi abbiamo preso un gol a difesa schierata. Lì, secondo me, potevi benissimo evitare quei gol. E dopo il numero 16 ha insaccato facce le facce. Sì, un colpo di testa furtuito. Però era da solo, eh. Cioè, era da solo. Cioè, non è... È inconcepibile... È inconcepibile che venga lasciato così da solo. Cioè, non esiste proprio. Quindi... Ultimamente, anche con le Binolefe abbiamo lasciato troppi spazi. Troppi spazi. Anche col Trento. Cioè, ultimamente la difesa della Tresina sta facendo un po' acqua da tutte le parti, eh. Quindi... Il problema, secondo me, non è la difesa. Il problema è l'attacco che non segna. Perché... Anche oggi l'Escano... Se non sbaglio, ci sono arrivate uno o due palloni, eh. Giocabili, eh. Cioè, ragazzi... L'Escano ha fatto 11 gol quest'anno. E per un giocatore che è pagato caro. Perché per il prezzo della Serie C è caro. Cioè, fino adesso... Cioè, mi aspettavo di più. Cioè, il L'Escano dell'anno scorso che ha fatto caterve di gol a Pescara... Io non lo sto vedendo quest'anno, eh. Cioè, 11 gol su me sono pochini, eh. Sì, è vero, viene da un infortunio. Cioè, ha dovuto mettere i punti per l'intervento che ha subito su degli carri. Ma lasciate perdere. Cioè, è da un po' di mesi che l'Escano non tocca un pallone, eh. Quindi, cioè... Sono segnali preoccupanti. Segnali preoccupanti questi. Cioè, noi creiamo poco. Anche oggi... Cioè... Errori tecnici a non finire, eh. Cioè... Non ripartivamo più. Non facevamo un fraseggio. Come ho sempre detto... Come ho sempre detto... Noi dobbiamo provare di più il tiro da fuori. Perché magari col tiro da fuori, no? Trovi un rimpaglio, una deviazione. Come è successo oggi. Noi, anche lì andiamo... Cioè, siamo limitati sui cross. Perché quante volte siamo andati sul fondo. Cross e la prendevano sempre. Perché ormai... Sanno come limitarti. Quindi... Ultimamente abbiamo poche idee lì davanti. Cioè, D'Urso sì, prova a fare qualche giocata, qualcosina. Però, adesso, boi. La prossima dovrebbe tornare a Redan lì davanti. Però... Io se fosse la proprietà... Comprerei un attaccante lì davanti. Perché Evertonen... Si vede che non è in forma. Finotto, quando è entrato, non ti ha dato nulla. Cosa ti ha dato Finotto? Cioè, lo sentivo in radio cronaca. Eh, ma te sarai azzeccati i cambi. Ma ci mancherebbe altro. Cioè, li hai azzeccati perché... A quelli... A quelli e basta. Anche perché Finotto non ti ha dato niente. L'unico, l'unico che ha messo un po' di vivacità è il Zarac. E infatti ha trovato il gol. Però... Bisogna dire che il gol l'hai trovato in modo fortunoso, eh. Perché non è che stessi chissà che attaccando, no? Per tutti. Dici, boh, all'ottantesimo vado avanti, le provo. Non ho visto sta grande squadra, eh. La Triestina, eh. Cioè, che ha provato a fare il gol del 2-1. Cioè, ha tirato, ha trovato la deviazione. Perché se lì difensore dai Provercelli non la devia, cioè, la palla non va mai dentro. Non va mai dentro, ragazzi. Cioè, il portiere era solo a traiettore, se voi ben guardate. Cioè, la stava prendendo. È il difensore che l'ha spiazzato. Quindi oggi, veramente, bisogna ringraziare la Dea Bendata che ti ha salvato il culo. Perché se no, anche oggi, altri punti persi, eh. Niente, Mulioni. Femme Savera. Come che avevi visto la partita, ma... Ultimamente la Triestina sta facendo delle brutte prestazioni. Sì, le stai vincendo, anche se domenica scorsa hai buttato via punti, le stai vincendo per il rotto della cuffia. Cioè, al 92esimo. Cioè, tu non puoi sempre arrivare al 92esimo. Dici, boh, un tanto ti se la vinco. Non è, non è sempre Natale. Oggi ti è andata bene perché hai trovato un tiro fortunoso. Chiaro, sono contento dei tre punti, eh. Perché sono tre punti importanti, eh. Ci permettono di non mollare mai, di stare attaccati al Padua. Scordatevi il primo posto, ragazzi, eh. Scordatevelo, eh. Cioè... Il Mantua, dubito, è che crolli, eh. Dubito. Poi nel calcio può succedere di tutto. Ma il Mantua è un ruolo compressore quest'anno, eh. Noi forse, dico forse, perché boh, questa è vittoria, come è anche importante, no? Per aver messo un distacco tra la terza e la quarta, perché l'Atalanta e la Provocelli cominciavano a avvicinarsi un po'. Però forse possiamo giocarcela per il secondo posto. Però anche lì, se continui a fare queste prestazioni, non lo so, non lo so. Muli, mi vi auguro buona serata. Femme saver come avete visto la partita, ma... non sono segnati incoraggianti, eh, questi. Perché... sono molto preoccupato per l'attacco, perché l'attacco... Cioè, sì, hai segnato Ezraak, che è un trequartista, però... gli attaccanti creano poco, eh. Lescano oggi... Finotto, quando è entrato, non ti ha dato nulla. Vertengen, sì, fa il solito lavoro sporco, no? Fa salire la squadra, no? Tiene sul pallone, lotta, però... Non è un giocatore che mi fa impazzire, eh. Fino adesso... Cioè, poca roba. È Stovernetegne. È vero che... non è... Ha poca condizione anche lui. Però... Cioè, io se fossi la società, prenderei un attaccante... un vice... Un vice... Un vice Gillescan, un vice Redan. Lo stiamo vedendo adesso, cioè... Ti mancano due... Fai fatica, fai fatica a creare, eh. Qualcosina lì davanti. Niente. Buona serata, Muli. Se vediamo la prossima... Adesso la prossima non mi ricordo quanto che sei. Domani gioca il Mantua, ma... Vincerà facile. Vincerà facile. Con quella prossima. Figuremosi, figuremosi se il Mantua va a steccare la seconda defila. Scordiamo il primo posto, ragazzi. Noi... Intanto cerchiamo di tenersi il terzo e forse potremo arrivare al secondo, ma... Anche l'ago i miei dubbi. Buona serata, Muli. Sempre forse a Triestina. Sempre forse a Triestina. Zada bene oggi, eh. Zada bene. Grazie ed è abbendata oggi. Grazie ed è abbendata. Buona serata a tutti.